buon anno amici crociati bentornati sul canale del crusaders oggi ci voleva ci voleva l'ultimo dell'anno per rifare un video però un saluto è doveroso ragazzi quindi colgo l'occasione per salutare tutti e dare buon anno è stato un 2021 non so per voi impegnativissimo di cazzo mi fai che sono venuto a vedere questo video per un altro motivo effettivamente parliamo parliamo del motivo per cui stiamo facendo questo video prima del 2022 c'è un solo obiettivo per questo parma secondo me per io vi do tutte le motivazioni possibili per cui bisogna prendere questo giocatore poi voi mi dite la vostra nei commenti mi scrivete mi mettete prima un like iscrivete o viceversa e poi potete mettere il commento mi raccomando perché giovinco dovrebbe tornare a parma allora le motivazioni sono tante poi ormai è sulla bocca di tutti credo a livello nazionale internazionale che il suo ritorno deve essere parma perché il giocatore ha parlato con gg buffon suo grande amico ex compagno e quindi già questo sicuramente avranno parlato e la voglia e il desiderio di voler giocare insieme a gg buffon e raggiungere l'obiettivo secondo me è una di quelle cose che un calciatore non potrebbe più che desiderare all'età di 34 anni secondo me più per soldi ormai va per obiettivi per dargli quella quella grinta quella voglia in più no di continuare dagli nuovi stimoli e questo come è già un punto a favore per il parma l'altro l'altro punto favore chiaramente a disponibilità quindi cadato il ragazzo per tornare a parma perché comunque si è trovato bene un bel ambiente e per il parma motivo in più prenderlo no per cui uno che conosce già l'ambiente qualche compagna quindi secondo me non c'è scelta migliore se non prendere sebastian giovinco ma sapete io sono troppo di parte quindi io vi do delle motivazioni anche non obiettive non soggettive scusate ma oggettive per cui altre squadre stanno venendo fuori no alla ricerca di questo ragazzo secondo me vedi la sandoria o qualche altra squadra uscirà uscirà perché ormai il nome è uscito e lui vuole ritornare in italia e quindi diverse squadre probabilmente ci tenteranno no nei prossimi giorni a prenderlo però però la volontà del giocatore si è capita quindi secondo me adesso la palla l'ha passata alla società ha detto anche che la gente ha parlato con ribalta quindi altro punto in più altro tassellino in più aggiunto per raggiungere l'obiettivo di portarlo a parma altre motivazioni quali volete il giocatore lo conosciamo la sua integrità fisica la si sa non ha mai avuto gravi infortuni tocchiamo tutto quello che volete cavallo ferro botti vino toccate quello che volete tanto l'ultimo dell'anno spaccate pure quello che volete ma calci piazzati a parma da quanto è che non ne vediamo decenti cioè adesso per vedere un calcio piazzato in questa squadra penso che capitare il miracolo di del santegno per per vedere un gol o un'azione decente sul calcio piazzato perché ultimamente veramente stiamo vedendo di quelle robe di quelle robe quindi punto a favore sui calci piazzati movimento in campo tocco di palla smarcatura ad uomo che adesso a parma credo che l'ultimo giocatore che è stato driblato da un calciatore del parma credo che sia stato forse ai tempi di cassano che abbia scartato un giocatore perché poi nell'ultimo periodo non ricordo giocatore che fa fare no la differenza di marcatura in campo e quindi tendenzialmente è solo lui l'obiettivo principale da poter prendere non si può sbagliare attendiamo con fiducia la società la risposta iachini che poi mi dicono iachini vuole faria ragazzi iachini vuole giocatori forti non vuole scommessi vuole raggiungere l'obiettivo e se vuole raggiungere l'obiettivo di prendere gente così gente capace esperta e che conosce il calcio italiano e che conosce come si muove la sinfonia a parma quindi noi l'abbiamo già visto l'abbiamo già apprezzata parma quindi tutti lo conosciamo secondo me è un giocatore può farti altri tre anni a buoni e alti livelli in italia in italia almeno altri tre anni quindi secondo me non si può sbagliare l'altra cosa in più l'altra cosa in più l'altra motivazione in più che al giocatore perché tornare in italia comunque ricordo ricordo che c'è sempre un mondiale in catar a breve quindi il ragazzo secondo me come gigi buffon potrebbe perché no un domani poi pensare a rientro nazionale che lì davanti abbiamo messi ronaldo quindi chi lo sa chi lo sa io ho detto la mia è avevo detto la mia su buffon ve la ricordate potete andare a riprendere il video io buffon avevo richiesto il suo ritorno due anni fa è arrivato in due benedirità giovinco anche lui lo cito ormai da tempo in memore quindi io ho detto la mia di solito ci azzecco vediamo eh a presto ragazzi ci vediamo nel nuovo anno attenzione ci sarà una puntata caldissima su parma game pass prima dell'inizio del campionato vedremo chi ci sarà un abbraccio caloroso a tutti forza parma sempre